Allora, corridoi fluviali come elementi essenziali per la connettività in regione Lombardia, quindi passiamo la parola a Fabrizio Malaggi del Farco regionale dell'Oglio. Buongiorno a tutti. Per fortuna Sergio ha anticipato alcune cose che devo dire io, così vado via un po' più veloce sulla parte iniziale che forse mi porterà via un pochino di tempo, ma ritengo sia abbastanza importante per inquadrare il risultato di questo studio che abbiamo fatto, che si chiama EcoPay Connect, che è stato un po' inventato tre anni fa sul discorso dell'implementazione della rete ecologica all'interno del Parco Oglio Sud, che come vedete è inquadrato nella zona sud orientale della regione Lombardia, nel tratto terminale del fiume Oglio. Come diceva Sergio, appunto, è un parco inserito in un contesto estremamente antropizzato dove l'attività agricola la fa da padrone e come vedete da queste immagini le aree naturali sono sostanzialmente scomparse un po' in tutto il territorio e spesso l'agricoltura si spinge fino al confine con la sponda fluviale, con tutti i problemi sia ecologici che idraulici del caso. Ovviamente esistono anche relitti di naturalità che sono quelli che premiano il parco come area protetta e che gli danno la finalità, quindi la conservazione di questi piccoli ambienti che sono il nostro bacino di riserva, diciamo, di biodiversità. Ovviamente sono aree estremamente piccole e quindi che spesso non riescono a far fronte a eventuali perturbazioni ambientali che possono sconvolgerle e quindi mettere in crisi completamente il sistema. Da questi dati che potete leggere capite che il parco che si estende su quasi 13 mila ettari ha una possibilità di azione diretta circa su 200. È un dato che ho aggiornato perché ieri mattini era a 100, nel senso che abbiamo appena ottenuto, stiamo per ottenere le ultime concessioni demaniali che ci portano ancora quasi una novantina di ettari, per cui siamo intorno ai 200 ettari di territorio che possiamo gestire direttamente senza dover chiedere al privato che giustamente sul proprio terreno cerca di portarsi a casa il reddito per mantenere la propria famiglia e i propri dipendenti. Per cui da questo quadro capite che è fondamentale trovare la quadra con il settore privato sia per implementare il territorio ecologico che per mantenere poi i siti Natura 2000 che stiamo gestendo che sono sostanzialmente tutti di proprietà privata. Sapete meglio di me, dai discorsi che si facevano ieri sera a tavola, penso che la Lombardia sia un po' un'isola felice soprattutto perché c'è la presenza di Fondazione Cariplo che foraggia per così dire la realizzazione di questi interventi e quindi dà una grossa mano a che si possano realizzare interventi di riqualificazione fluviale. Tuttavia a livello proprio di ente regionale i fondi negli ultimi dieci anni sono calati drasticamente. Per la verità quest'anno c'è un piccolo incremento quindi speriamo che il peggio sia passato ma trovare risorse per far fronte alle necessità di riqualificazione e di mantenimento non solo di riqualificazione degli ambienti è davvero difficile. Per cui ci siamo un po' inventati questo metodo partendo dal concetto che prima di tutto è necessario avere una progettualità di ampio respiro e di lungo periodo in modo che man mano che escono i bandi per quanto piccoli o settoriali possano essere sfruttati per risolvere alcune criticità. Quindi vedete in questa slide il percorso logico del progetto che adesso faccio scorrere velocemente come dicono sempre i formatori per creare aspettativa e interesse più che per spiegarvi perché capisco che nel tempo che ho a disposizione non posso farlo ma mi serve anche per giustificare poi le scelte che vedrete alla fine della presentazione. Quindi sostanzialmente il percorso è questo, individuazione dei problemi e progettazione delle soluzioni idonee a far fronte a questi problemi mappatura e valutazione economica dei servizi ecosistemici perché l'idea era quella di sfruttarli come leva sul decisore politico per far capire l'importanza della conservazione della natura analisi delle parti interessate, i cosetti di stakeholder non so come siete più abituati a sentire questa parola quindi abbiamo preso in considerazione il mondo agricolo che sono sostanzialmente i proprietari del parco perché di fatto tutto il parco è privato e dei settori economici che ritenevamo strategici in base a una serie di valutazioni che abbiamo fatto per poi arrivare a una progettazione negoziata di, l'aspirazione era abbastanza alta pagamenti per servizi ecosistemici o ambientali quindi abbiamo fatto un'analisi dei problemi li abbiamo classificati, dato un ordine di priorità abbiamo progettato le soluzioni che in estrema sintesi si possono concretizzare con questi due macro insiemi uno da realizzarsi sul privato quindi riqualificazione della fascia fluviale quella prevista dall'articolo 29 del PAI quindi 10 metri di rispetto del fiume che sarebbero obbligatori ma che è completamente disatteso la piopicoltura sostenibile quindi con una collaborazione con FSC Italia che poi vi spiegherò meglio e l'implementazione di siepi e filari che sono sempre più rare nella campagna che servono per mille scopi come potete ben immaginare dal punto di vista ecologico e poi interventi invece diretti nelle aree che il parco può utilizzare con la riqualificazione di aree umide oppure riqualificazione delle aree demaniali del demanio fluviale qua ci sarebbe da parlare per 4-5 presentazioni ma ovviamente non è lo scopo è solo per dire che la valutazione che abbiamo fatto dei servizi ecosistemici dal punto di vista economico ci ha dato un quadro di valore molto elevato che ci ha fatto sentire insomma la possibilità di chiedere maggiori risorse per conservare questo capitale naturale e trovare anche altre leve per poter finanziare il mantenimento e il miglioramento di questo capitale abbiamo fatto un'analisi delle parti interessate quindi sostanzialmente degli agricoltori e le tre cartografie che vedete non torno indietro vediamo se no niente è lo stesso la prima si basa sulla presenza assenza di fasce riparie e come intravedete dalla prima cartina che però purtroppo ho sovrapposto stupidamente vedete le parti in rosso sono quelle dove il fiume ha meno di 5 metri di fasce riparie vuol dire che praticamente c'è un albero ogni 100 metri che ovviamente non ha nessuna funzionalità nella seconda c'è un'indagine che riguarda quali aziende agricole con seminativi superiore a 15 ettari quindi soggetti agrini potessero essere presi in considerazione per indirizzarle verso l'implementazione di siepi e filari in modo che possano rispondere a questo requisito e l'ultima invece è un raffronto tra le siepi esistenti nel 54 se non sbaglio e quelle attuali ovviamente il 54 lo vedeva un assetto territoriale completamente diverso quindi tendenzialmente non si potrà arrivare a quella quantità però diciamo che è un punto di raffronto per poter capire come potrebbe essere un assetto territoriale sono stati incontrati gli imprenditori agricoli grazie anche alle associazioni di categorie che sono state fondamentali per poter fare un dialogo facile con gli agricoltori perché vedono sempre il parco come un ostacolo attraverso diverse attività anche molto interattive per facilitare la partecipazione la stessa cosa è stata fatta con i settori economici quindi l'imprenditoria locale tutto questo ha portato a creare una sorta di schema che è quello che avevamo un po' previsto cioè mettere insieme cittadini, imprenditori e altri enti che potessero dare un contributo volontario per motivi che adesso non sto a spiegare che possono essere dalla volontà di conservazione come questione etica a invece interessi economici farli confluire in un fondo da sfruttare per la realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale oppure anche attraverso dei bandi simil PSR in Regione Lombardia abbiamo il Pizzetto Speciale Agricoltura che per farla breve ha un piccolo PSR per le aree parco anche se ormai non è finanziato da qualche anno noi come Parco Aglio Sul l'abbiamo finanziato per qualche anno in più con l'avanza di amministrazione ma poi si sono esauriti i fondi in modo da poter intervenire sia sul pubblico che sul privato questo permette l'implementazione dei servizi ecosistemici che ritornano a tutti quelli che hanno finanziato creando un circolo virtuoso di economia circolare questo lo salto e eventualmente lo tengo per le domande così che immagino si sarà qualche cosa in genere almeno quindi le informazioni che abbiamo raccolto ci parlano di 1700 ettari di coltivazione di pioppo all'interno del parco presenza di aziende di trasformazioni del pioppo certificato FSC e mancanza di offerta di pioppo certificato queste sono informazioni che nessuno aveva colto ma che attraverso il confronto con i istituti economici abbiamo potuto individuare la mancanza di relazioni tra i pioppo coltori è stato un problema che abbiamo riscontrato e un'opportunità che abbiamo colto è che dal 2018 lo standard di certificazione FSC prevede che il 10% della superficie produttiva deve essere destinata a area rappresentativa quindi ambiente naturale di fatto solo che se il privato lascia il 10% della sua superficie trasformandola da produttiva in produttiva sostanzialmente ma ambiente naturale ha un costo altissimo di mancato reddito e di perdita di superficie appunto la collaborazione del parco consiste nel fare un contratto con questo pioppo coltore e dandogli in gestione in un'area naturale o da rinaturalizzare questo abbatte i costi dell'imprenditore perché può fare direttamente questo lavoro e non rinunciare al suo reddito il parco scarica parte dei suoi costi di gestione sul privato in un rapporto in cui entrambi vincono per di più anche l'economia locale ne risente in maniera positiva perché alcune aziende come Panguanetta e Invernizzi che sono state anche i sostenitori e i finanziatori di questo progetto trovano materiale certificato in loco senza doverlo andare a prendere in Francia chiudo tanto vi ho già detto tutte le conclusioni ve le ho detto sostanzialmente adesso il progetto continua con un altro investimento fatto da fondazione Caliplo su un territorio più vasto e speriamo di poter esportare l'esperienza grazie come sempre un po' di spazio per gli approfondimenti e le domande Giuliano Trentini abbiamo cambiato valet una domanda che Fabrizio sa già sa già che te la faccio di fatto con se l'azienda si fosse autonomamente certificata FSC il parco avrebbe guadagnato delle superfici naturali invece in questo modo le superfici naturali non sono aumentate di estensione visto che date in gestione al piopicoltore delle superfici vostre rispetto a questo quel dato di servizi ecosistemici è quello attuale o è quello potenziale raggiungibile con un piano di interventi di riqualificazione allora è quello attuale è quello attuale cioè attuale si ha giornato due anni fa in base alla copertura del suolo e agli usi che si è però sostanzialmente invariato per quanto riguarda invece la prima domanda allora poi è stato fatto anche un'analisi di dove si potrebbe arrivare se la vision descritta nelle cartografie fosse raggiunta per cui abbiamo anche diciamo un differenziale che ci può far capire che incremento di capitale naturale e quindi di servizi ecosistemici possiamo avere per quanto riguarda la prima domanda è una contestazione che ho sempre tutta la volta che presento questo progetto allora il gioco è un po' questo adesso abbiamo degli interventi a basso costo e servono un po' come starter per far partire il giochino quindi queste queste due prime aziende che hanno preso in gestione 29 ettari totali dei circa 40 che gestiamo attivamente come foreste capite che siamo già arrivati quasi alla saturazione della gestione comportano per le aziende una spesa annua di 300 euro a ettaro in costi di gestione che è un dato che abbiamo un po' mediato tra il loro mancato reddito e le nostre necessità e sostanzialmente corrisponde grossomodo al guadagno annuo che ha un piopicoltore che coltiva pioppo sostanzialmente dalle nostre parti per cui queste convenzioni vengono fatte per un quinquennio quindi ogni ettaro ha 5 anni di manutenzione a 300 euro a ettaro che può essere spesa o con interventi puntuali o con un intervento in 5 anni a seconda della necessità dell'area di un diradamento piuttosto che l'idea è quella che i prossimi che chiedono non avranno più il bosco da riqualificare ma il bosco da piantare il che il costo è più alto però se vogliono mantenere la certificazione questo è il passaggio fin tanto che arriviamo a livello in cui i loro costi sono più alti ma non lo sarà mai perché di fatto il terreno glielo odiamo per cui aumenterà di fatto la loro spesa e in questo modo noi possiamo i soldi che spendiamo per le manutenzioni ordinarie possono per queste cose straordinarie possono essere utilizzate per l'ordinario quindi raggiungiamo altri scopi in più possiamo acquistare nuove aree in un secondo momento quindi bisogna vederlo in un'ottica di lungo periodo e adesso siamo solo all'inizio mi viene da dire comunque e chiudo vedete qua questo link da dove potete scaricare tutte le analisi che sono state fatte sui servizi ecosistemici sulle questioni economiche e anche sul tipo di contratto che facciamo per cui chi volesse approfondire questi aspetti può trovare tutto lì oppure mi può contattare insomma c'era un'altra domanda rapidissima grazie allora rimaniamo sul grazie 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 grazie